GF VIP 7, la reazione degli spartani dopo il provvedimento di ieri sera, vogliono fare uscire uno di noi. Un duro provvedimento disciplinare ha coinvolto quattro vipponi della casa del GF VIP nel corso della puntata andata in onda ieri sera. Edoardo Tavassi, Micolin Corvaia, Edoardo Donnamari e Nicole Murgia sono stati mandati direttamente al televoto dopo lo scandalo dei microfoni staccati nel van. Dopo la diretta, gli spartani si sono sfogati fra di loro, raccontando che ci sono stati casi ben più gravi avvenuti una volta avarcata la Porta Rossa. I coinquilini hanno poi fatto alcune insinuazioni in merito ad Antonino Spinalbese. Sembrerebbe infatti che l'airstilist abbia portato un cellulare nella casa del GF VIP. Secondo Luca Onestini è una congiura per fare uscire uno degli spartani. Alla prossima! Grazie.